buongiorno a tutti ragazzi benvenuti a questa nuovissima live a questa nuovissima puntata di trenta minuti con lo spirito santo buongiorno oggi è lunedì lunedì ragazzi ventisette novembre ore sette e trenta puntualissimi buongiorno buongiorno come ogni lunedì mercoledì e venerdì alle sette e trenta come sapete siamo live su Facebook Instagram e YouTube do il benvenuto a quanti si stanno collegando dalle diverse piattaforme buongiorno ciao ragazzi benvenuti buon inizio settimana oggi è lunedì e cominciamo un'altra settimana insieme cominciamo un'altra settimana insieme alla presenza di Dio cominciamo un'altra settimana col piede giusto non importa quello che è successo settimana scorsa non importa quello che è accaduto negli ultimi giorni questo weekend oggi abbiamo una nuova opportunità comincia un'altra settimana per cui possiamo iniziare col piede giusto non importa come abbiamo cominciato settimana scorsa come è finita questa settimana ma sappiamo che la Bibbia dice che al mattino le sue compassioni si rinnovano quindi si rinnovano ogni mattina le compassioni di Dio verso di noi e noi siamo nella gioia per questo perché se Dio non rinnovasse le sue compassioni nella nostra vita ogni mattina ogni giorno noi saremmo in serie difficoltà ma siccome lui è buono e la sua benignità dura in eterno le sue compassioni si rinnovano per cui signore grazie perché anche stamattina le tue compassioni verso la mia vita verso di me si sono rinnovate quindi partiamo di nuovo da capo col piede giusto partiamo all'inizio di una settimana partiamo bene e eh la cosa che importa di più la cosa più importante è come finire e finire bene non importa come iniziamo non importa come inizi il tuo cammino nella fede importa come finisci importa come finiamo l'importante è finire bene puoi anche partire male ma l'importante è finire bene quindi do il benvenuto a quanti ti stanno pian piano collegando buongiorno ragazzi di Instagram ciao ragazzi ciao Emanuele mitico amico mio buongiorno 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 ragazzi è bello vedervi qui è bello eh vedervi ehm pronti attenti ok quindi ehm Francesca Tonia benvenuti benvenuti ragazzi Adele do il benvenuto a quanti eh la mattina decidono di prendere questo tempo insieme ehm Annalisa scrive stasera mi ricoverano e domani mattina presto mi fanno il cesario ah che bello gloria a Dio Annalisa siamo contentissimi siamo davvero contenti sì eh eh che gloria a Dio ehm domani partorirai questo bel frutto il frutto dell'amore eh tuo e di tuo marito un forte abbraccio siamo sicuri che Dio guiderà le mani dei dottori e abbraccerai il frutto del vostro amore dell'amore tuo e di tuo marito siamo sicuri siamo sicuri di questo gloria a Dio stamattina ragazzi voglio insieme a voi leggere questo salmo e passare del tempo in preghiera salmo trentaquattro quindi salmo trentaquattro vedremo giusto alcuni versetti ok? Quattro cinque versetti insieme non lo leggeremo tutto per motivi di brevità ma eh leggetelo leggetelo con calma leggetelo tutto perché è un salmo eh intenso un salmo importante un salmo che ehm ci fa riflettere quindi stamattina insieme noi vedremo solo alcuni versetti salmo trentaquattro salmo di Davide salmo meraviglioso di Davide tra l'altro questo è il salmo che Davide scrive quando si finse pazzo davanti ad Abimelec eh che poi lo cacciò eh vi ricordate Davide fece finta di essere matto eh per paura e in realtà perché questo salmo è vicino a noi perché Davide il re Davide il grande re di Israele eh perché questa figura emblematica questa figura così così particolare come Davide eh spesso lo vediamo sempre sapete come quello che ha tagliato la testa a Golia lo vediamo sempre come quello che ha vinto eh migliaia di battaglie quello che ha sparso tanto sangue eh quello che ha vinto in realtà tante battaglie ma lo vediamo anche come una persona molto fragile Davide qui si finge pazzo ora non ho tempo di raccontarvi questa storia magari andate a leggere voi con calma ma Davide si finse pazzo perché ebbe paura per la sua vita ebbe paura di morire ebbe paura che potessero fargli del male quindi si finge pazzo è un uomo che ha sconfitto Golia un uomo che ha ucciso il leone l'orso un uomo che aveva una tale fede in Dio a un certo punto si finge pazzo davanti al suo nemico per scampare la vita e quindi in questo caso è come se non si fidasse abbastanza di Dio ma dovesse aiutare Dio quindi dice mi fingo pazzo per scampare la vita quasi come se Dio non avesse potuto salvarlo vedete però Davide era un uomo secondo il cuore di Dio quindi questo ci dà speranza perché non bisogna essere perfetti per essere un uomo una donna secondo il cuore di Dio basta avere un cuore predisposto alle cose di Dio basta avere un cuore che si pente davanti a Dio quando viene meno perché Davide era un uomo che si sapeva pentire ecco la forza di Davide si sapeva pentire quando sbagliava sapeva andare a Dio spesse volte noi rimaniamo fermi bloccati nelle nostre cose perché veniamo meno veniamo meno nella vita veniamo meno davanti a Dio e piuttosto che correre a Dio e correre ai ripari cosa facciamo ci chiudiamo in noi stessi che allontaniamo da Dio non preghiamo non leggiamo più non andiamo più in chiesa perché siamo venuti meno e abbiamo vergogna bene Dio lì Dio che toglie via la vergogna quando noi ci pentiamo quando noi andiamo a lui quando noi rigettiamo tutto quello che non appartiene a Dio confessiamo il nostro peccato permettiamo al prezioso sangue che Gesù ha sparso sulla croce di lavarci ed ecco che Dio ci riabilita di nuovo non bisogna far passare anni non bisogna far passare mesi per tornare a Dio e per continuare a servirlo basta semplicemente pentirsi tornare a lui con tutto il cuore essere rattristati per ciò che abbiamo fatto ma poi continuare a servirlo perché non serve a nulla bloccarsi non serve a nulla fermarsi e Davide è stato un grande esempio quindi tutti noi acclamiamo Davide ma Davide era un uomo con tanti difetti ok quindi dovette fingersi pazzo per salvare la vita io e te non abbiamo bisogno di fingerci pazzi io e te abbiamo bisogno di fidarci di Dio quindi questo Salmo 34 Davide lo ha scritto in queste circostanze ok fatto un piccolo preambolo per chi non lo sapesse e dice io benedirò l'eterno in ogni tempo la sua lode sarà sempre nella mia bocca verso due l'anima mia l'anima mia si glorirà nell'eterno gli umili ludranno e si rallegreranno magnificate con me l'eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome verso 4 ho cercato l'eterno ed egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi e si hanno guardato a lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono state svergognate verso 6 questo afflitto ha gridato l'eterno e l'eterno lo ha esaurito e l'ha salvato da tutte le sue avversità l'angelo dell'eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e li libera gustate vedete quanto l'eterno è buono beato l'uomo che si rifugia in lui gustate e vedete quanto l'eterno è buono gustate un attimo solo ragazzi che ho un piccolo problemino tecnico qui come al solito ecco eccoci qua gustate vedere quanto l'eterno è buono wow gloria a dio ma andiamo al verso uno verso uno dice benedirò l'eterno in ogni tempo ecco la chiave ecco la chiave per la vittoria benedire l'eterno in ogni tempo letteralmente significa benedirò l'eterno in ogni situazione e noi stamattina lo vogliamo benedire non importa come ti sei svegliato non importa il feeling che senti non importa se senti o non senti di lodare dio non importa se i problemi ti stanno assalendo non importa se oggi devi pagare delle bollette che erano impreviste non importa se oggi devi fare qualcosa che non ti va giù non importa oggi loda dio qualsiasi cosa in ogni tempo in tempo buono e in tempo negativo in tempi favorevoli e in tempi sfavorevoli io benedirò l'eterno in ogni tempo e se noi consideriamo che davide ha scritto questo salmo mentre quando si è finto pazzo e noi consideriamo che davide ha scritto questo salmo per salvarsi la vita davanti a un uomo io vedo davide impaurito ma che nella sua paura sceglie di lodare dio io benedirò sceglie di benedire dio io benedirò l'eterno in ogni situazione quindi la tua situazione la mia situazione oggi non è troppo grande o grave per il signore non è troppo difficile per il signore signore io ti benedico stamattina coraggio stamattina noi vogliamo benedire dio stamattina io voglio benedire dio con la mia bocca con le mie labbra con tutta la mia lode signore io ti benedico io do gloria a te alleluia coraggio lì dove sei non rimanere impalato non rimanere con la bocca chiusa non rimanere fermo ma ogni momento della giornata quando hai tempo e quando non hai tempo anzi meglio benedire dio quando non hai tempo perché quando non hai tempo umanamente parlando e scegli di benedire dio sta mettendo dio al primo posto e se mettiamo dio al primo posto abbiamo detto che anzi gesù ha detto che lui ci darà tutte le altre cose anche quelle che noi gli chiediamo cercate prima il regno di dio e la sua giustizia e tutte le altre cose io ve le darò in più gesù ce ne dà in più ci dà anche le cose che noi gli chiediamo noi abbiamo chiesto ma che sono il nostro cuore secondo la sua volontà lui ce le dà alleluia quindi io benedirò l'eterno in ogni tempo signore io ti benedico signore il tuo popolo ti benedice coraggio prenditi un minuto stamattina per benedire dio cosa significa benedire dio dire bene di dire bene di dio signore grazie per la tua bontà io racconterò la tua bontà ad ogni creatura ad ogni persona che si metterà sul mio cammino io racconterò la tua benignità ad ogni persona che incontrerò stamattina racconterò quanto tu sia buono quanto tu sia grande racconta gli altri le cose grandi che dio ha fatto per te io benedirò l'eterno in ogni situazione in ogni circostanza alleluia nell'acqua nel fuoco nella tempesta nel deserto nell'arsura nel prato io benedirò l'eterno alleluia signore grazie grazie signore grazie perché tu sei fedele grazie perché signore tu sei l'eccelso alleluia coraggio prenditi un tempo per benedire dio stamattina prenditi un tempo per dire bene di dio prenditi un tempo stamattina alleluia per ricordare le promesse di dio prenditi un tempo di signore grazie perché tu sei buono la tua benignità dura in eterno signore grazie alleluia alleluia signore gloria al tuo nome benedetto il nome di dio allora davide sceglie nelle sue angosce nelle sue difficoltà di lodare dio e io benedirò l'eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra ovviamente la bocca parla dall'abbondanza del cuore per cui se davide era in grado di lodare dio in ogni tempo ciò significa che il cuore di davide era pieno della lode di dio perché davide era un uomo che passava del tempo con dio verso 2 l'anima mia si glorierà l'anima mia si glorierà nell'eterno alleluia gli umili ludranno e si rallegreranno questo verso 2 descrive la sua lode a dio in una maniera orgogliosa davanti agli uomini l'anima mia si glorierà quindi partiamo che davide sta lodando l'eterno in ogni tempo e qui quasi si vanta del suo dio quasi si vanta della lode che lui sta esprimendo a dio l'anima mia si glorierà nell'eterno gli umili ludranno e si rallegreranno quindi ludranno devono udire la lode che davide emana la lode che davide emette devono dire ed è orgoglioso il salmista qui è orgoglioso del fatto che lui sta lodando dio è orgoglioso del fatto che lui l'anima sua si spande davanti a dio quindi gli altri lo devono vedere gli umili ludranno e si rallegreranno non ti puoi rallegrare se non lo odi non puoi rallegrare il cuore degli altri se non sentono che tu lo di dio non puoi rallegrare il cuore degli altri se non vedono che nel tuo cuore nella tua vita c'è questo rapporto questa relazione con dio perché lo devono dire e se tu non parli non possono dire se tu non esalti dio davanti agli altri non lo possono sapere quando ti diranno da dove viene la tua gioia da dove viene la tua pace tu gli dirai che viene dal principe della pace quindi apri la tua bocca proclama le sue lodi esalta il tuo dio sia orgoglioso di appartenere a questo grande dio sia orgoglioso che puoi lodare dio perché lo conosci molti lo vorrebbero fare ma non lo possono fare alleluia molti sono alla ricerca di dio ma nel posto sbagliato molti sono alla ricerca della vera spiritualità perdonatemi ma sta la stanno cercando nel posto sbagliato molte persone sono assetate molti giovani meno giovani sono assetati delle cose di dio ma le stanno cercando nella new age le stanno cercando nell'occultismo nella magia nella stregoneria nella lettura delle carte stanno cercando dio ma se nessuno glielo presenta se nessuno gli parla di questo dio se nessuno esalta questo grande dio davanti alle persone come faranno le persone a sapere che c'è un dio nel cielo noi dobbiamo fare attenzione amici a non diventare egoisti redenti egoisti perché all'inizio eravamo così entusiasti di parlare di Gesù perché avevamo incontrati il vero amore poi col tempo siamo diventati egoisti basta che le cose vanno bene a me basta che qualcuno predichi a me basta che io ricevi la parola di dio perché sono scoraggiato perché ci sono alcuni credenti che vivono nello scoraggiamento hanno deciso di vivere nello scoraggiamento ma tu lo sai che la mancanza di fede essere sempre scoraggiato avere sempre paura lo sai che è peccato perché stai facendo dio piccolo non ti stai fidando di dio e allora hai cominciato a fidarti degli uomini della scienza della medicina della tua religione ti stai fidando di cose vane di cose che crolleranno ti stai fidando della sabbia perché hai costruito sulla sabbia e ci sono quei credenti sempre scoraggiati in qualsiasi momento della giornata o dell'anno gli incontri sono tristi neri bui tenebrosi perché non stanno permettendo a dio innanzitutto di guarire il loro cuore ma non stanno permettendo a dio di rinnovare la loro mente sono rimasti credenti perché hanno accettato gesù in un tempo ma non hanno permesso allo spirito santo di rinnovare la loro mente quindi sono credenti carnali ecco perché le persone stanno cercando dio nel posto sbagliato perché io e te stiamo venendo meno nel mandato che dio ci ha dato quello di presentare gesù a questo mondo quello di dire che c'è un dio nel cielo che ancora oggi libera alba vorisce perdona i peccati spezza le catene se questo io e te non lo facciamo chi lo deve fare e allora satana se ne approfitta e manda fuori tutte le sue creature tutti i suoi agenti ieri parlavo con un ragazzo conosciuto un ragazzo ieri e mi diceva proprio questo diceva sai quanti amici miei stanno cercando qualcosa di spirituale ma la cercano nella new age lo cercano nel satanismo nell'occultismo perché perché stiamo venendo meno non stiamo presentando la vera spiritualità ma la gente alla ricerca quindi davide in una maniera orgogliosa presenta gli altri la sua lodi a dio gli umili ludranno e si rallegreranno e piuttosto che giudicare le persone amiamole serviamole perché se siamo credenti siamo diventati servi degli altri specie se siamo nel ministero siamo diventati servi degli altri e allora cosa succede succede che a questo punto davide dice magnificate con me l'eterno magnificatelo ne vale la pena magnificate con me l'eterno ed esaltiamo tutti insieme il suo nome verso tre la parola ebraica magnificate ascoltate bene significa rendere grande rendere grande qualcuno il salmista dichiara la grandezza di dio magnificate l'eterno rendiamo grande l'eterno dici ma perché dobbiamo renderlo noi grande dio già è grande amèn dio è già grande non ha bisogno di me di te ma visto che lui ci ha scelti e visto che noi abbiamo un rapporto con lui io devo rendere grandi le opere di dio quelle devo rendere note le devo rendere grandi rendi grandi le opere di dio già sono grandi ma dio vuole che io e te lo magnifichiamo lo glorifichiamo quindi magnificate con me l'eterno ed ecco che davide qui chiede alla sua platea chiede ai suoi lettori di fare la stessa cosa di unirsi alla sua lode magnificate l'eterno con me venite insieme a me adorate glorificatelo con me magnificatelo rendiamo grande dio venite fatelo insieme a me quindi davide cerca quest'unità quest'unione con il popolo di dio venite magnificatelo con me rendiamolo grande alleluia ed ecco che al verso 4 dopo averlo glorificato vedete bene verso 1 lo benedirò in ogni tempo in ogni situazione verso 2 l'anima mia si rallegra nell'eterno quindi la il fatto di essere allegro scaturisce dalla lode quindi vediamo l'effetto della lode l'effetto che la lode ha sulle nostre vite cioè ci rende allegri gioiosi quindi venite l'anima mia si glorierà nell'eterno gli umili ludrano e si rallegreranno quindi la lode ti porta allegria verso 3 magnificate con me ancora ti parla di rendere grande dio di magnificarlo di glorificarlo e allora al verso 4 ho cercato l'eterno ed egli mi ha risposto e non solo mi ha risposto ma mi ha liberato da tutti i miei spaventi notate la risposta di dio arriva dopo averlo lodato glorificato magnificato confessato i peccati dopo quando vai a dio aspettati la risposta perché ho cercato l'eterno e come lo ha cercato lo ha cercato nella lode lo ha cercato rendendolo grande magnificando il suo nome ha cercato dio l'ho cercato ed egli mi ha risposto gloria a dio perché ancora oggi dio risponde gloria a dio perché ancora oggi lui interviene e ci libera da ogni spavento davide racconta di come dio sia stato fedele con lui quando lo ha cercato per la liberazione perché in un modo o nell'altro davide davanti ad abimele ha scampato la vita quindi dio che ha orchestrato ogni cosa gli ha salvato la vita ho cercato l'eterno ed egli mi ha risposto e non solo mi ha risposto ma mi ha liberato essi verso cinque hanno guardato a lui e sono stati illuminati e le loro facce non sono state svergognate il termine illuminati in ebraico descrive l'essere gioiosamente soddisfatti perché dice i loro volti sono stati illuminati e le loro facce non sono state svergognate forte vero termine illuminati dall'ebraico significa essere gioiosamente soddisfatti quelli che guardano all'eterno sono soddisfatti alleluia c'è soddisfazione nel cuore di chi guarda il signore io stamattina voglio essere soddisfatto dalla presenza di Dio perché voglio guardare a lui non voglio guardare ai problemi che ho non voglio guardare a quello che devo affrontare stamattina non voglio guardare a quello che non ho ma voglio guardare a quello che ho in Dio voglio guardare a ciò che ho in Cristo perché molte volte ci fissiamo e focalizziamo su ciò che non abbiamo o su ciò che gli altri hanno piuttosto che concentrarci su ciò che abbiamo ed essere grati di quello che abbiamo perché Dio sa alleluia quindi io voglio essere gioiosamente soddisfatto in Cristo alleluia signore grazie vogliamo spendere questi minuti stamattina alla presenza di Dio a lodarlo a glorificarlo ferma tutto ciò che stai facendo mancano pochissimi minuti concentrati su Dio fermati questi tre quattro minuti e loda Dio insieme a me signore grazie perché la tua benignità dura in eterno signore grazie perché noi alziamo a te un canto di lode per la liberazione ottenuta perché tu ci hai liberati ieri ci hai liberati oggi e ci libererai domani signore grazie perché questo afflitto ha gridato e l'eterno lo ha soccorso signore grazie noi ti benediciamo stamattina ti diamo lode onore lì dove sei proclama le lodi di Dio confessa con la tua bocca non distrarti non fermarti a guardare i commenti non fermarti a scrivere non ferma fermati fermati dal fare tutto blocca blocca tutto ciò che stai facendo e concentrati sul dare gloria a Dio concentrati sulla dare lode sull'onorare Dio sul magnificare il suo nome coraggio di signore grazie signore grazie per come tu benedici l'anima mia signore grazie per come mi hai liberato oh alleluia fratello sorella amico lui ti libererà lui libera lui è il grande liberatore lui è il grande oh alleluia Dio è il grande potente re re dei re signore dei signori lui è il primo e l'ultimo lui è l'alfa e l'omega lui è la prima lettera dell'alfabeto e l'ultima lettera con lui tutto ha cominciato e tutto finirà tutto a inizio in Cristo e tutto si concluderà in Cristo coraggio quindi stamattina hai più che una ragione per glorificare Dio abbiamo più che una ragione per dire signore grazie perché mi hai liberato fermati e se ancora non ti ha liberato la tua certezza è quella che lui interverrà ti libererà alleluia gloria a Dio coraggio questo afflitto ha gridato e non è rimasto lì con la bocca asciutta non è rimasto deluso questo afflitto ha gridato alleluia ci sono delle volte in cui devi gridare proprio con la tua voce devi sfogare certe volte te ne devi andare su un post in un posto dove nessuno ti sente e semplicemente urlare davanti a Dio per scaricare tutto quello stress accumulato questo afflitto ha gridato all'eterno ed è stato esaudito e l'eterno lo ha salvato salvato da ogni avversità lo ha liberato signore grazie grazie signore grazie padre gloria al tuo nome signore noi ti diamo lode e gloria stamattina ti benediciamo signore affidiamo a te questa giornata qualsiasi cosa dobbiamo fare qualsiasi persona dobbiamo incontrare qualsiasi visita dobbiamo fare noi ci affidiamo a te questi afflitti siamo tutti degli afflitti stamattina amen allora gridiamo a Dio ed egli ci ci soccorrerà e gli verrà e non verrà in vano verrà per liberarci signore grazie perché stamattina siamo consapevoli che pure se siamo afflitti gridiamo a te e tu ci libererai grazie padre rimani con noi rimani con i miei fratelli con le mie sorelle rimani con quanti invocano il tuo nome e continua a liberarci dal male dal maligno e da tutto ciò che non onora te signore noi confessiamo i nostri peccati stamattina confessiamo i nostri falli perdonaci signore lavaci col sangue prezioso di Gesù quel sangue che su quella croce è stato sparso per i nostri peccati purifica le nostre vite le nostre menti nostri occhi nostri cuori le nostre bocche purificaci signore e fa che possiamo ancora una volta rialzarci e correre verso la meta celeste che è stata designata per noi grazie ti prego per analisa signore che si ricoverà ti ricovererà ti preghiamo signore per il suo parto ti preghiamo signore che tu guidi le mani dei medici e che tutto andrà secondo la tua volontà guida ogni cosa signore benedici lei suo marito e benedici signore il frutto del suo grembo e fa che presto la possiamo abbracciare grazie rimani con noi e con quanti si affidano al popolo di Dio e alle nostre preghiere nel nome di Gesù amen e amen amen ragazzi Dio vi benedica continuate a meditare su questo salmo salmo straordinario salmo 34 leggetelo tutto rileggetelo e rileggetelo ancora perché ci sono tanti spunti per poter meditare su questo salmo ed è qualcosa di straordinario ok quindi ci accompagnerà tutta la giornata questo salmo e qualsiasi cosa accade oggi ricordati l'eterno e l'eterno che libera ragazzi Dio vi benedica ormai gli appuntamenti che avremo a dicembre gennaio li conoscete già ve li ho già detti ma ehm li riannuncerò e rimanete collegati con noi perché presto partirà ragazzi stiamo organizzando il Christmas party eh per i ragazzi del quartiere quindi eh presto vi darò delle info eh delle maggiori info su questo il programma che dovremmo fare a Natale per raccontare il vero Natale ai ragazzini del quartiere che ormai da quasi due anni stiamo curando e stiamo vedendo dei frutti straordinari quindi cominciate a pregare poi ehm vi darò i dettagli dell'evento che faremo ok? Dio vi benedica ragazzi ci vediamo mercoledì come sempre alle sette e trenta se non l'hai condivisa questa live lo puoi fare anzi fallo subito per essere di benedizione a quanti stamattina hanno perso questa puntata. Dio vi benedica.